Domenica 12 agosto appuntamento a Silvi Marina con la prima edizione del Triathlon Silvi, un evento organizzato dalla WISP a Bruzzo e Molise, dalla SD Pro-Life, dalla Movida Eventi, in collaborazione e con il patrocinio della città di Silvi. Partenza fissata alle ore 18 per la gara ufficiale, mentre alle 17 ci sarà il Running Bimby con varie categorie dai 0 ai 14 anni. Logisticamente Silvi si presta a queste manifestazioni avendo il mare a portata di mano proprio e quindi siamo stati molto agevolati tecnicamente nel realizzare questo evento. Cercheremo di dare il meno possibile disagio alla popolazione. Abbiamo studiato il percorso al minimo dettaglio senza bloccare il traffico, limitandoci proprio sui due metri, stringendoci sui due metri tutti con i birilli per delimitare la strada e per far sì che defluisca il traffico e quant'altro. Il primo triathlon città di Silvi Marina è una gara di triathlon promozionale con bici da strada in formula sprint. Sarà possibile competere sia in forma individuale oppure con staffetta a squadra. Il percorso prevede, come da formula del triathlon, tre discipline, il nuoto per 750 metri in mare, poi 20 chilometri di bicicletta e 5 chilometri di corsa a piedi. È uno sport cosiddetto nuovo, è entrato a far parte dell'Olimpia del 2000 e come si è detto già è un nuoto, ciclismo, corsa. È un percorso tecnico, bello e daremo spettacolo sicuramente. Il sindaco di Silvi Marina, Andrea Scordella, sottolinea come eventi di questo genere siano importanti per il territorio e per la promozione turistica della città. Verrà toccato tutto il territorio silvarolo, oltre i 100 atleti da tutta Italia. Dunque siamo veramente felici insieme alla WISP di aver organizzato questo primo evento a Silvi con la speranza di riportare Silvi al centro delle cronache sia sul turismo e sia sullo sport nazionale. In poco tempo organizzare una manifestazione così importante non è stato semplice però grazie anche al presidente della WISP e anche a tutti quanti al sindaco, alla giunta ma anche e soprattutto alle autorità locali che ci daranno una mano nella gestione di questa bellissima gara mi sono tranquillizzata e sono contenta che Silvi possa ospitare questa grande manifestazione.